Ho fatto un sospiro perché il signor Galas e anche il professor Parisi che sono qui di fronte a me mi hanno sollecitato su un argomento, un argomento che è piccante. Com'è la sessualità al giorno d'oggi e com'era la sessualità quando io ho incominciato a lavorare nel 1950. Tutti sapete che quando si parla di sesso in questo paese tutti sghignazzano, tutti fanno i mezzisorrisini, di sesso non se ne deve parlare, è la prosecuzione della specie ma di sesso non se ne parla perché è sempre un argomento un po' tabù. Su questo argomento io credo che la Chiesa abbia molte colpe, sono convintissimo, perché dal concilio di Trento, da quando hanno incominciato a dire che i preti non si devono sposare, tutto il clero è diventato molto nemico di questa parte del corpo umano che doveva essere tenuta fuori dagli argomenti. Allora, quando si parla di sesso a me viene un po' da sorridere perché il sesso è una cosa importantissima. non dico che è sacro, ma quasi forse più che è sacro il sesso, perché se non ci fosse il sesso, ditemi se ci sarebbero i nostri figli, se ci sarebbe la prosecuzione della specie. La prosecuzione della specie avviene perché c'è sesso, perché se non ci fosse il sesso evidentemente uno non andrebbe a letto con la moglie o con l'amante o con il calè. Il rapporto tra il maschio e la femmina, non tra uomo e donna, ma tra maschio e femmina, è sesso. Allora, dico a Galas e a Parisi che mi hanno stuzzicato che cosa era il sesso nel 1951. Allora, premessa, non c'era l'aborto vietato per legge. Chi faceva l'aborto? Una via Segantini che l'ho ripetenata più di una volta, la quale metteva una supposta di spasmo cibagina nell'utero della donna. Uno. Seconda, una aveva un ago da calza e infilava dentro la vacata e provocava una rottura. Questo allora era veramente un rischio perché gli antibiotici non c'erano ancora sul territorio come ci sono adesso e non è che si potessero dare perché erano i primi antibiotici, quindi c'erano anche dei rischi, non sapevamo, i scioccano affilatici, tutte queste cose. Quindi gli antibiotici si davano, ma insomma con certa cautela. L'aborto, ecco. Allora, allora, c'erano due verginità. Due. Una religiosa, perché il clero aveva le sue regole, bisogna sposarsi e solo allora le donne mollavano gli ormeggi. Secondo il clero, naturalmente, le molleva gli ormeggi molto prima, non cosa niente. Però, quelle che mollavano gli ormeggi, dal punto di vista religioso, come quelle che mollavano gli ormeggi, indipendentemente dalla religione, lo facevano con una certa paura. Cioè, quella ragazza che decideva di avere un rapporto sessuale con una persona aveva dei rischi. Aveva dei rischi. Perché? Perché se rimaneva incinta e non voleva quel figlio, me la raccontate voi cosa che l'era. Bisogna averle vissute queste cose. Io le ho vissute. Allora, siccome ero farmacista, ti puoi impagnarti, il farmacista ha sempre avuto un po' l'idea del santone, quel che conosce per il sesso, funziona, appunto, torca, l'ulga, qualcosa. Esode questo passo. Oppure le donne che venivano e mi hanno detto qualcosa, ma l'un lo sa, ma l'ulga. Insomma, ho avuto parecchi contatti di questo genere. Allora, la sessualità, allora, era molto diversa da quella che oggi. Il cambiamento epocale, sottolineo, epocale, è stato dato dalla pillola, dagli anticoncezionali, dalla pillola del giorno dopo, dall'aborto legalizzato. Questo è il punto. Perché una donna oggi che ha un rapporto sessuale, ora tolgo la pillola e se per caso il rapporto non c'è, all'aborto. e quindi è cambiata totalmente la... però il sottoscritto ha una sua religiosità anche nel considerare il rapporto sessuale e il sesso. Perché il sesso, abbiamo detto prima, è la prosecuzione della specie. Ragazzi, i primi uomini, noi che vedete, che tipo di rapporto sessuale avranno avuto i primi uomini? La pornografia ci sarà stata o non ci sarà stata? Che tipo di rapporto sessuale c'era? Era un rapporto di sessuale liscio o c'erano anche allora delle complicazioni, come si potrebbe dire oggi, di tipo pornografico? Probabilmente non c'erano. Ma oggi il sesso per un certo verso è stato troppo sdrammatizzato, è diventato un divertimento. Sì, è vero, può essere un divertimento, però è sempre la prosecuzione della specie. Ecco. E allora quando io parlo di sesso mi dà fastidio quando vedo la gente che fa i sorrisini, ma dottor chi, ma dottor là, ma Lucy, ma lui là, la sua età, esode questo passo. Mi dà un po' fastidio perché preferisco parlare di sesso scientificamente parlando. Ecco. È difficile. Lo insegnano nelle scuole. Io ho fatto un esperimento personale su una quinta elementare. Non è così facile. Perché spiegare come funziona la vaia va bene, come funziona la vaia va bene, ma quando si deve parlare dell'erezione, cioè dell'erezione maschile, è insomma l'improvera. A proposito di erezione maschile, sono andato a vedere da dove deriva quella parola che tutti adoperno, cazzo. Allora, per darvi un parere scientifico, deriva dal latino, cattia, che voleva dire mescolo. Poi è diventato la cazzola e la derivazione è una derivazione latina. Quindi quando la dite abbiate un po' più di rispetto per questa parola perché, ripeto, è una parola molto antica.